Doppio indizio di Agatha Christie Ma soprattutto nessuna pubblicità, ripetè forse per la quattordicesima volta il signor Marcus Hardiman. La parola pubblicità era stata pronunciata durante tutto il colloquio con la regolarità di un late motive. Il signor Hardiman era un ometto piuttosto pingue, con le mani curatissime e una lagnosa voce tenorile. A modo suo era quasi una celebrità. Si può dire che la sua professione fosse quella di fare vita mondana. Era ricco, ma non tantissimo. E spendeva assiduamente i suoi quattrini per divertirsi in mezzo all'alta società. Aveva lobby del collezionismo. E' l'anima del collezionista. Antichi merletti, antichi ventagli, antichi gioielli. Niente di smaccato o troppo moderno per Marcus Hardiman. Quando Poirot e io, rispondendo ad una convocazione urgente, eravamo arrivati da lui, avevamo trovato l'ometto nelle tormentose spire dell'indecisione. Date le circostanze, si ribellava violentemente all'idea di chiamare la polizia. D'altra parte, non chiamarla sarebbe stato come adattarsi subitamente alla perdita di alcuni degli oggetti più belli della sua collezione. Aveva scelto Poirot come compromesso. I miei rubini, messie Poirot, e la collana di smeraldi Dicono che appartenesse a Caterina dei Medici O la collana di smeraldi Se voleste riferirmi le circostanze della loro sparizione provò a suggerirgli con gentilezza Poirot E quello che sto cercando di fare Ieri, nel pomeriggio, ho invitato un po' di gente per il tè Una riunione informale Saremo stati sei o sette, non di più Ho già dato uno o due tè di questo genere durante la stagione mondana E anche se non toccherebbe a me dirlo Sono stati un vero successo Un po' di buona musica Nacora, il pianista E Catherine Beard, la contralto australiana Nella sala della musica Beh, un po' prima All'inizio della riunione Avevo mostrata agli ospiti La mia collezione di gioielli medievali Li tengo in quella piccola cassaforte laggiù E' situata come una specie di scrigno Nell'interno L'ho fatta foderare di velluto colorato Perché le gemme risultassero meglio Poi abbiamo esaminato i ventagli In quella teca appesa alla parete Infine siamo passati di là Per fare musica E' stato solo quando tutti se ne sono andati via Che ho scoperto la cassaforte svuotata del suo contenuto Probabilmente non l'avevo richiusa bene E qualcuno ha colto quell'opportunità per saccheggiarla I rubini Messie Poirot La collana di smeraldi Una collezione che ho impiegato tutta la vita a mettere insieme Cosa darei per recuperarla? Ma non si deve fare nessuna pubblicità a quello che è successo Mi capite vero Messie Poirot Si tratta dei miei ospiti Di amici personali Sarebbe uno scandalo terribile Chi è stata l'ultima persona a lasciare questa camera Quando siete passati nella sala della musica? Il signor Johnston Lo conoscete forse? Il milionario sudafricano Ha affittato di recente La casa degli Abbottoburi In Park Lane Ricordo che è rimasto indietro per qualche minuto Ma non può essere stato certamente lui No, no Qualcuno dei vostri ospiti È forse tornato in questa camera Durante il pomeriggio Con un pretesto qualsiasi Ero preparato a sentirmi fare questa domanda Messie Poirot Sì Tre degli invitati sono rientrati qui La contessa Vera Rossakoff Il signor Bernard Parker E Lady Rancorn Parlatemi un po' di loro La contessa Rossakoff È un'affascinante dama russa Che apparteneva all'Ancien Regime È venuta a vivere qui da noi Solo da poco tempo Mi aveva già salutato E sono rimasto piuttosto sorpreso Di ritrovarla poi In questo stesso locale A fissare Apparentemente in estasi La teca dei ventagli Sapete cosa vi dico Messie Poirot Che più ci penso Più questo particolare Mi sembra sospetto Non siete d'accordo con me Estremamente sospetto Ma sentiamo cosa hanno fatto gli altri Parker è venuto semplicemente A prendere una custodia In cui conservo certe miniature Che volevo mostrare A Lady Rancorn E Lady Rancorn Come immagino che sappiate Lady Rancorn È una donna di mezza età Provista di una considerevole forza di carattere E dedica la maggior parte Del suo tempo A varie opere benefiche È tornato indietro Solo per recuperare La borsetta Che aveva lasciato In qualche posto Bien messie Dunque Abbiamo quattro possibili persone sospette La contessa russa La grande dama inglese Il milionario sudafricano E il signor Bernard Parker Chi è il signor Parker? A proposito La domanda imbarazzò considerevolmente Il signor Hardman È un giovane Beh, ecco È un giovane che conosco Questo l'avevo già dedotto per conto mio Rispose Poirot in tono grave Ma cosa fa questo signor Parker? È un giovane elegante Fa vita mondana Forse non è proprio Quel che si dice Un tipo molto in vista Se così posso esprimermi E come ha fatto A diventare vostro amico? Beh, in un paio di occasioni Ha svolto qualche piccolo Incarico per me Continuate messie Disse Poirot Hardman lo guardò Con due occhi Che chiedevano pietà Evidentemente L'ultima cosa che desiderava Era proprio Continuare a parlare Ma dal momento che Poirot Manteneva un silenzio Inesorabile Si decisa a capitolare Vedete Monsieur Poirot Il fatto che mi interesso Di gioielli antichi Non è un mistero Qualche volta capita Di doversi disfare Per necessità Di un oggetto Che fa parte Dell'eredità Di famiglia Qualcosa che Badate bene Nessuno vorrebbe mai vendere Apertamente sul mercato E neppure Ad un commerciante Di preziosi Ma una vendita Fatta a me In privato È del tutto Differente Parker Organizza L'affare Nei minimi Dettagli Si tiene In contatto Con le due parti Interessate E in questo modo Si evita Ogni situazione Imbarazzante Non solo Ma mi fornisce Anche tutte le informazioni Possibili In materia Per esempio La contessa Rossakoff Ha portato Dalla Russia Qualche gioiello Di famiglia E ci terrebbe Molto A vendergli Bernard Parker Avrebbe dovuto Occuparsi Delle trattative Di quest'affare Capisco Disse Poirot Pensieroso E avete Piena fiducia Nel signor Parker Non ho motivo Di pensare Il contrario Fra queste Quattro persone Chi Sospettate? Oh Messie Poirot Che domanda Sono amici Per me Come vi ho Già detto Non Sospetto Nessuno Di loro Oppure Tutti Come preferite Non sono D'accordo Voi Sospettate Una Di queste Quattro Persone Non si Tratta Della Contessa Rossakoff Non si Tratta Del signor Parker Dunque Chi sarebbe? Lady Rancorno O Il signor Johnston Mi mettete con le spalle al muro Messie Poirot Davvero Sono molto ansioso di non far nascere uno scandalo Lady Rancorn Appartiene ad una delle più antiche famiglie inglesi E' vero però E' disgraziatamente vero Che sua zia Lady Caroline Soffriva di una forma di malattia mentale molto triste Naturalmente Tutti gli amici ne erano al corrente E la sua cameriera si affrettava a restituire il più in fretta possibile I cucciaglini da te o quello che era Capite quindi la mia posizione Dunque Lady Rancorno aveva una zia cleptomane Molto interessante Mi permettete di dare un'occhiata alla cassaforte? Mentre il signor Hardiman assentiva Poirot spalancò lo sportello della cassaforte E cominciò ad osservarne attentamente l'interno Ci trovammo di fronte ad una serie di ripiani vuoti Foderati di velluto Anche adesso Lo sportello non si chiude come dovrebbe Mormorò Poirot Mentre lo muoveva avanti e indietro Chissà perché Ah ecco Ho trovato C'è un guanto impigliato nel cardine Un guanto da uomo E lo teso al signor Hardiman Non è mio Ah ma qui c'è qualcos'altro Poirot si chinò rapidamente E raccolse un piccolo oggetto Dal ripiano più basso della cassaforte Si trattava di un portasigarette piatto Nero Il mio portasigarette Esclamò il signor Hardiman Il vostro portasigarette? Niente affatto messie Queste non sono le vostre iniziali E gli indicò il monogramma Formato da due lettere increcciate in platino Hardiman lo prese in mano Avete ragione Ammise È molto simile al mio Ma le iniziali sono diverse Una P e una B Santo cielo Parker Già Si direbbe proprio così Disse Poirot Un giovane piuttosto distratto Specialmente Se anche il guante è suo Significherebbe che abbiamo un doppio indizio Vero? Bernard Parker Mormorò Hardiman Che sollievo Bene, monsieur Poirot Lascio a voi l'incarico di recuperare i gioielli Affidate pure la faccenda alla polizia Se lo credete opportuno Cioè Se siete certo Che il colpevole sia lui Vedete amico mio Mi disse Poirot Mentre lasciavamo insieme La casa del signor Hardiman Quell'uomo Si è fatto una legge Per le persone titolate E un'altra per quelle che non lo sono Quanto a me Non ho ancora ricevuto un titolo nobiliare Quindi mi schiero dalla parte di coloro che non ce l'hanno Provo una certa simpatia per questo giovane Tutta questa faccenda è abbastanza strana Non vi pare? Hardiman sospetta Lady Rancorn Io sospetto la contessa e Johnston E invece il nostro uomo sarebbe questo sconosciutissimo signor Parker Perché sospettavate gli altri due? Parbleh E' una cosa talmente semplice Farsi passare per un'esule russa O un milionario sudafricano Qualsiasi donna può dire di essere una contessa russa Qualsiasi uomo può affittare una casa in Park Lane E dichiarare di essere un milionario sudafricano Chi volete che li contraddica? Adesso però mi accorgo che stiamo passando per Bury Street Il nostro distrattissimo giovane amico abita qui Proviamo a battere il ferro finché è caldo Il signor Bernard Parker era in casa Lo trovammo avvolto in una vestaglia dai colori sgargianti Tra i quali predominavano il rosso e l'arancione Mi è capitato di rado di provare tanta antipatia per qualcuno Come per questo giovane dalla faccia pallida L'aria effeminata La pronuncia blesa Più per vezzo che per un reale difetto Buongiorno Messier Disse Poirot in tono vivace Vengo adesso da casa Hardiman Ieri durante il ricevimento Qualcuno ha rubato al signor Hardiman tutti i suoi gioielli Permettetemi di farvi una domanda Messier E' vostro questo guanto I processi mentali del signor Parker non sembravano molto rapidi Fissò il guanto come se facesse un po' fatica a raccapezzarsi Dove lo avete trovato? Domandò infine E' vostro Messier Il signor Parker sembrò a questo punto disposto a parlare No, non è il mio Affermò E questo porta sigarette? Assolutamente no Ne ho uno d'argento che porto sempre con me Benissimo Messier Affiderò alla polizia la soluzione di questo mistero Un momento Calma Se fossi in voi non mi sognerei di fare una cosa del genere Esclamò il signor Parker manifestando un'evidente preoccupazione Gente maledettamente antipatica Quelli della polizia Aspettate un momento Vado a parlare con il vecchio Hardiman Ehi, aspettate un momento Ma Poirot dimostrerò molto decisamente Che preferiva andarsene senza indugio Gli abbiamo fornito qualche argomento per meditare Ridacchiò Domani staremo a vedere cos'è successo Invece, eravamo destinati ad occuparci del caso Hardiman Quello stesso pomeriggio La porta di casa nostra si spalancò senza il minimo preavviso E un ciclone in forma umana Invasse la nostra intimità Portando con sé un vortice di zibbellino Faceva freddo come soli in Gran Bretagna Può far freddo in una giornata di giugno E un cappello letteralmente ricoperto Delle piume ottenute Dopo un vero e proprio massacro di struzzi La contessa Vera Rossakoff Aveva una personalità alquante esuberante ed estroversa Siete messi e poirò? Lo sapete quello che avete fatto? Avete accusato quel povero ragazzo Una cosa infame Scandalosa Lo conosco E un pulcino Non sarebbe mai capace di rubare Ha fatto tutto il possibile per me E adesso dovrei stare qui a guardare Mentre lo martirizzano E lo torturano Senza muovere un dito Ditemi madame Questo porta sigarette Appartiene al signor Parker E Poirot le mostrò l'astuccio nero La contessa tacque un momento Mentre lo esaminava con attenzione Sì, è suo Lo riconosco E con ciò? L'avete trovato in quella stanza? Ci sono stati tutti E suppongo che gli sia accaduto Senza che se ne accorgesse Ah, voi poliziotti Siete peggio delle guardie rosse E questo guanto? Sarebbe del signor Parker anche questo? Come faccio a saperlo? I guanti si somigliano tutti Non cercate di impedirmelo Voglio fare qualcosa Quel ragazzo deve essere rimesso in libertà La sua posizione deve essere chiarita Sarete obbligata a farlo Venderò i miei gioielli E vi darò molto denaro Madame Siamo d'accordo allora? No, no, no Non discutete Quel povero ragazzo È venuto da me con le lacrime agli occhi Ti salverò Ti salverò gli ho detto Andrò da quest'uomo Quest'orco Questo mostro Lascia fare a Vera Adesso tutto è sistemato E me ne vado Senza tante cerimonie Con la stessa disinvoltura Con cui era entrata Uscì turbinosamente Lasciando nella stanza Una scia Di intenso profumo esotico Che donna Esclamai E che pellice Ah sì Quelle dovevano essere vere sul serio E' possibile Che una falsa contessa Porti pellice autentiche? Via Estins Questa è una mia piccola battuta di spirito No Credo proprio che sia russa Ah dunque Così il signorino Parker E' andato a lamentarsi con lei Il portasigarette è suo Mi chiedo se anche il guanto Con un sorriso Quarò tirò fuori da una tasca Un secondo guanto E l'ondò a posare vicino all'altro Non c'erano dubbi Facevano parte dello stesso paio Dove siete andate a prendere il secondo? Quarò Era abbandonato Sul tavolo dell'anticamera Insieme ad un bastone da passeggio In Bury Street Sì Bisogna proprio ammettere Che il signor Parker E' un giovane disordinato Bene bene mon ami Dobbiamo tirare le somme Tanto per salvare le apparenze Farò una visitina in Park Lane Inutile dire che accompagnai il mio amico Johnston era fuori Ma potemmo parlare con il suo segretario Così venimmo a sapere che Johnston era arrivato solo di recente dal Sud Africa E non era mai stato in Inghilterra prima Si interessa di pietre preziose azzardò Poirot Forse sarebbe più giusto parlare di miniere d'oro Rise il segretario Poirot venne via da quel colloquio molto pensieroso Qualche ora più tardi Quella stessa sera Lo trovai intento a studiare una grammatica russa Santo cielo Poirot Esclamai State imparando il russo Per poter conversare con la contessa Nella sua lingua natia Certo che quella signora Non sembra affatto disposta A prestare orecchio All'inglese che parlo io Caro amico Via Poirot I russi di nobile stirpe Non parlano Invariabilmente Un ottimo francese Siete una miniera di informazioni Estins Sì ecco Smetterò subito di occuparmi Delle complicazioni dell'alfabeto russo E buttò da una parte il libro Con un gesto drammatico Ma non ero soddisfatto Nei suoi occhi Avevo visto un particolare scintillio Che conoscevo fin troppo bene Un segno che Poirot Era contento di sé Forse Dissi con aria saccente Sospettate che non sia veramente russa E così Volete metterla alla prova? Oh no È proprio russa Su questo non ci sono dubbi E allora Se volete davvero farvi una buona reputazione di detective Con il caso del signor Hardman Estins Non posso che raccomandarvi I primi elementi della lingua russa Un sussidio Un sussidio di valore inestimabile Poi scoppiò a ridere E non volle aggiungere altro Andai a raccogliere il libro dal pavimento E cominciai ad osservarlo Con grande curiosità Tuttavia non riuscì a capire a cosa volesse alludere Poirot con quel consiglio La mattina successiva non ci arrivò nessuna notizia relativa al furto dei gioielli Ma non mi sembrò che questo fatto preoccupasse il mio amico A colazione mi annunciò che voleva andare a far visita al signor Hardman al più presto Trovammo ancora in casa l'anziano e mondanissimo piccolo uomo Il quale ci parve un poco più calmo del giorno precedente E allora Monsieur Poirot Ci sono notizie? Poirot gli tese un foglio di carta Questa è la persona che ha trafugato i gioielli Monsieur Devo rimettere il caso nelle mani della polizia? Oppure preferite recuperare le vostre pietre preziose senza che la polizia ficchi il naso in questa storia? Il signor Hardman stava fissando il foglietto Dopo un po' riuscì a trovare un filo di voce Incredibile! Straordinario! Preferirei senz'altro che non nascesse uno scandalo Vi do carta bianca, Monsieur Poirot Sono certo della vostra discrezione Il passo successivo di Poirot fu chiamare un taxi e ordinare all'autista di condurci al Carlton Quando ci arrivammo chiese di parlare con la contessa Rossakoff Pochi minuti dopo ci fecero entrare nell'appartamento che la dama russa occupava Lei ci venne incontro a Manitese avvolti in un magnifico negligee di uno strano tessuto a disegni barbarici Monsieur Poirot esclamò Ci siete riuscito? Avete potuto chiarire la posizione di quel povero ragazzo? Madame la contessa Il vostro amico, il signor Parker non corre assolutamente alcun rischio di essere arrestato Oh, siete davvero un uomo intelligente voi Magnifico! E come avete fatto in fretta oltretutto? D'altra parte avevo promessa al signor Hardiman che i gioielli gli sarebbero stati restituiti oggi stesso E allora? Di conseguenza, madame vi sarei estremamente obbligato se voleste consegnarmeli senza indugio Sono davvero spiacente di dovervi fare tanta fretta ma ho un taxi giù alla porta dell'albergo Nel caso fossi costretto a recarmi a Scotland Yard e noi belgi, madame abbiamo un carattere molto parsimonioso La contessa aveva acceso una sigaretta per qualche secondo rimase seduta dove si trovava perfettamente immobile soffiando dalle narici il fumo che si alzava in sottili volute nell'aria e fissando poirò senza battere ciglio Infine scoppiò in una risata e si alzò Si avvicinò ad uno scrittoio aprì un cassetto e tirò fuori una borsa di seta nera che lanciò con un gesto elegante a Poirot Il suo tono, quando ci rivolse la parola era garbato, frivolo e privo di qualsiasi emozione Noi russi, al contrario, siamo prodighi, disse e per praticare la prodigalità disgraziatamente ci vuole denaro Non occorre che guardiate nella borsa Ci sono tutti Poirot si alzò in piedi Mi congratulo con voi, madame per la vostra intelligenza e prontezza Ah, cos'altro potevo fare dal momento che avete il taxi alla porta? Siete troppo gentile Rimarrete a lungo a Londra? Temo di no Per colpa vostra Accettate le mie scuse Forse ci incontreremo ancora Chissà Me lo auguro Io no Esclavò la contessa con una risata E un gran complimento che vi faccio dicendo questo Ci sono pochi uomini al mondo Di cui io abbia paura Addio Addio, madame la contessa Ah, scusate, dimenticavo Permettetemi di restituirvi il porta sigarette Con un inchino Le porse il piccolo astuccio nero Che avevamo trovato nella cassaforte Lei lo prese senza mutare affatto la sua espressione Si limitò sola ad alzare leggermente un sopracciglio E a mormorare Capisco Che donna! Esclamò Poirot In tono pieno di entusiasmo Mentre scendevamo le scale Mondiè Che è il femme Non una parola di protesta Non un tentativo di blef Una rapida occhiata E ha saputo misurare in pieno la sua posizione Ascoltate quello che vi dico, Estins Una donna che sa accettare la sconfitta in questo modo Con un sorriso così non curante Farà molta strada È pericolosa Ha nervi di acciaio Inciampò rischiando di cadere Se provate a moderare un po' il vostro entusiasmo E a guardare dove mettete i piedi Forse sarebbe meglio Provai a suggerirgli Quando avete cominciato a sospettarla? Mon ami È stato il guanto con il portasigarette Il doppio indizio Vogliamo chiamarlo così Che mi ha lasciato perplesso Bernard Parker Poteva aver lasciato cadere facilmente E senza accorgersene L'uno o l'altro dei due oggetti Ma era un po' curioso Che li avesse perduti tutti e due Ah no Sarebbe stato un po' troppo Al tempo stesso Se qualcuno fosse andato a piazzarli Nella cassaforte Nella cassaforte Per incriminare Parker Uno solo poteva essere più che sufficiente O il portasigarette O il guanto Non tutti e due Lo ripeto ancora una volta Così sono stato costretto a concludere Che uno di quei due oggetti Non apparteneva a Parker In principio ho immaginato Che fosse suo il portasigarette E non il guanto Ma quando ho scoperto l'altro guanto Dello stesso paio Ho capito che si trattava del contrario E allora Di chi era quel portasigarette? Non poteva certo appartenere A Lady Rancorn Questo era evidente Le iniziali non corrispondevano Il signor Johnston Poteva essere suo soltanto nel caso Che si fosse presentato Qui da noi sotto falso nome Dopo che ho parlato con il suo segretario Mi è stato subito chiaro Che si trattava di una persona Al di sopra di ogni sospetto Non avevo notato nessuna reticenza da parte sua Quando abbiamo accennato al passato del signor Johnston La contessa allora A quanto avevo sentito dire Pareva che avesse portato con seda La Russia Qualche gioiello Le sarebbe bastato togliere le pietre preziose Dalle montature E non so se in seguito E non so se in seguito Perché sopra c'erano le iniziali BP Quelle della contessa sono VR Quarro mi rivolse un sorriso angelico Infatti Monami Nell'alfabeto russo V si scrive B Mentre R si scrive P Accidenti Non potevate certo aspettarvi che lo indovinassi Non so il russo io Neanch'io l'ho mai saputo Estins Ecco perché ho comprato quella grammatica E ho richiamato la vostra attenzione Sui rudimenti di quella lingua Sospirò Una donna straordinaria Ho la sensazione amico mio Una sensazione molto precisa Che la incontrerò di nuovo Ma chissà dove